29 Aspetta che me lo sono impegnato Ciao Come ti chiami? Monia Da dove vivi Monia? Verona Dove andiamo? Di sotto l'arena? 10 minuti dall'arena 10 minuti dall'arena di Verona Cosa sai fare di vero? Operare in un posto di liceo Eeeh Ma dovrei fare stola mattina? Molto presto Ah si è alta presto la mattina Bene Fortunato che ho finito al dato Che riceverà il primo messaggio Della giornata da te Complimenti Ascolta ma Luogo ideale come lo vuoi? Aiuto Beh dimmi che mi vuoi Pregata Pelato No Con i capelli Dico lo che vuoi Quello che non deve avere Non deve avere Vai Non deve essere pelato Non pelato Non mi piace Ragazzi mi dispiace Avete preso male Poi Poi Neanche troppo in carne Anche qui ne caviamo il 50% Poi E la barba non la sopporta Ragazzi non mi piace Non mi piace Ehi Vabbè Ascolta è difficile Vabbè la barba si può bagnare Allora Vedete voi Ragazzi si può sacchialtare Incavate la barba La mettete in testa Si può sacchialtare Si 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 è moferata Posso dire un po' Imbarazzata E' molto moferata ragazzi Bene guarda Io ti consiglio questo messaggio E vi auguro il caro di alcolino Grazie 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 Bene ragazzi Grazie a te Noi a stare gli occhi splendide Azzurri Azzurri come il male Complimenti Grazie Complimenti